Problemi per il completamento della posa del nuovo manto erboso in erba sintetica dello stadio Marco Tomaselli, dovuti alla non conformità dell'intarsio delle linee di delimitazione dell'impianto, che dovrà ospitare incontri di calcio e rugby. Una situazione segnalata dalla dirigenza della Nissa Rugby e della quale si è interessato anche il presidente della federazione reggbistica italiana Marzio Innocenti, il quale ha anche contattato personalmente l'amministrazione comunale. Una situazione inaspettata, hanno affermato i vertici della Nissa Rugby, che ancora una volta pone l'impiantistica nissena al centro dei riflettori per delle inspiegabili anomalie. Non riusciamo a capire cosa stia accadendo. Abbiamo lavorato tantissimo per ottenere il finanziamento di quest'opera e siamo sorpresi. Dobbiamo capire cosa accadrà. Magari a breve, con la prosecuzione dei lavori, tutto potrebbe rientrare nella norma, cosa che tutti ci auguriamo. Nel frattempo, il presidente della federazione italiana reggbi Marzio Innocenti ha sottolineato che la commissione impianti federale, assistita dall'ufficio legale, segue con estrema attenzione l'evolversi della vicenda per ottenere il rispetto del progetto e dunque una tracciatura del campo polivalente corrispondente al bando. Grazie.